Cosa indossare in questi giorni grigi e piovosi? TSPS Ignition Waterproof è la risposta di Alpinestar a questa domanda. Un giubbino sport touring, quindi adatto al 90% delle situazioni che vanno a crearsi in questo periodo, come dice il nome, antiacqua, quando è chiuso, dato che la lamina è esterna, con un trapuntino interno ovviamente removibile quando si ha caldo, comunque nei primi giorni magari della mezza stagione, certificato classe A, vuol dire che pur essendo omologato da moto, con le varie protezioni sui gomiti e sulle spalle e i rinforzi appunto come vedremo dopo sul giubbino che abbiamo di prova, è comunque comodo appunto per un utilizzo turistico, quindi quando facciamo dei movimenti come questi non abbiamo alcun problema. Essendo appunto giubbino da moto abbiamo le classiche regolazioni con il velcro, sulla vita, sui polsi e anche sul collo. La cerniera interna di connessione ai pantaloni dedicati, sempre dell'Alpinestar, è appunto per chi è un po' più delicato sul collo, un colletto in microfibra. Potete notare i dettagli riflettenti e ovviamente non scordiamoci delle protezioni. Le protezioni sono Nucleon Flex a nido d'ape, quindi molto leggere, traspiranti e comode, quasi non si sentono, però ovviamente ci sono e sono omologate a livello 1. Abbiamo la possibilità di mettere un paraschena Alpinestar o un qualsiasi universale, sia a livello 1 che a livello 2 tramite la tasca dedicata. Se volete venire a provarli presso fuori strada, venite pure, abbiamo un vasto assortimento di taglie in questi due colori Yellow Fluo, Red Fluo e potete trovarli anche su tuttoperlamoto.it Il meglio al miglior prezzo